Dal 5 agosto servirà il Green Pass per il ristorante al chiuso. Basterà però avere anche solo la prima dose di vaccino. L'entrata in vigore del Green Pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi. E' questo l'accordo trovato durante la cabina di regia tra governo e regioni, che ha inasprito per le colorazioni quanto proposto dai governatori nelle ultime ore. Con terapie intensive occupate al 20% e al 30% per le aree mediche, si passa non in zona gialla ma in zona arancione, mentre col 30% delle terapie intensive occupate e il 40% per le aree mediche, le regioni passeranno in zona rossa. Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai governatori, il ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, di quello alla salute Roberto Speranza e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Intanto sono 61 i casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.913 tamponi molecolari. Il risultato così positivo è il 2,09% dei campioni. Continua ad aumentare l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che sale a 23,2. In variati ricoveri, che sono 19, rimane bassissimo il tasso di ospedalizzazione. 1% sia per terapie intensive sia per area medica. Non ci sono decessi recenti. Il bilancio delle vittime è fermo da una settimana a 2.513. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 mesi e 78 anni. Gli attualmente positivi sono 1.064. 18 pazienti, numero invariato, sono ricoverati in ospedale in area medica. E uno, invariato, è in terapia intensiva, mentre gli altri 1.045 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 71.995. Dei 75.572 casi complessivamente accertati in Abruzzo. 19.218 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 10. 19.593 in provincia di Chieti, più 17. 18.367 in provincia di Pescara, più 18. 17.687 in provincia di Teramo, più 13. 590 fuori regione e 117 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.